Sarebbero complessivamente 1.241 i migranti approdati nelle ultime ore a Lampedusa su sei barconi. L'ultimo sbarco, il più numeroso, si è concluso con l'arrivo in porto di 493 profughi che erano su un'imbarcazione alla deriva. Il primo sbarco, avvenuto inottato a Linosa, è invece il meno consistente, 14 tunisini anche loro trasferiti a Lampedusa. Rush finale per la campagna elettorale in vista del voto delle amministrative del 15 e 16 maggio. Berlusconi chiude la campagna a Napoli mentre Cassino e Fini promuovono il terzo polo a Bologna. Da Torino Bersani chiama l'appello i moderati mentre la Lega con Bossi a Varese prosegue la corsa solitaria della Lega alla conquista del Nord. Ma è polemica dell'opposizione per l'eccessiva presenza del Premier in TV. Quello a cui stiamo assistendo è assolutamente scandaloso e fuori da qualsiasi idea di democrazia moderna. Berlusconi sta invadendo in modo assolutamente arbitrario tutte le TV e tutti i DG di sua proprietà e non solo. Lo dice la capogruppo del PD al Senato, Anna Finocchiaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.